Torniamo con il nostro appuntamento mensile sull'andamento del nostro portafoglio speculativo XTB, le performance e quali potrebbero essere le nostre scelte future ed in più anche un ebook omaggio sulle cripto, ma ne parliamo subito dopo la sigla. Ciao a tutti, bentornati sui risparmi, io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto. Continuano i brutti momenti del mercato azionario, sinceramente soprattutto per queste aziende di tipo speculativo o quelle che vengono percepite come hyper growth o comunque che abbiano un'alta volatilità e rischio, in questi momenti appunto queste aziende sono praticamente come scavarsi una fossa. È normale, quando scorre sangue per le strade gli investitori lasciano il rischio per porti più sicuri, ma come tutto quello che ho detto anche in passato, questi sono portafogli a lunghissimo termine per cui è normale che questo avvenga. Prima di andare al PC volevo solo dirti che XTB offre un ebook gratuito con alcune basi sulle criptovalute, per chi inizia in questo momento, soprattutto in questa settimana particolarmente infelice come quella che si è appena conclusa con il progetto Terra che è praticamente sottoterra e scusate il gioco di parole l'ho voluto fare apposta, oggi come mai bisogna capire che si tratta di un mondo difficile che va trattato con le pinze e con la giusta conoscenza. Se volete scaricare questo ebook vi lascio il link gratuito qui sotto in descrizione, per cui andiamo al PC e poi torniamo qui per le nostre ultime considerazioni. Ed eccoci qui in piattaforma, come si può vedere il nostro portafoglio sta andando alla grande, infatti stiamo perdendo una marea di soldi, l'unica azienda positiva in questo momento se così si possa definire è lo 0,47% di positivo, circa 8,94$ su Metaplatform in cui abbiamo fatto due ingressi, un secondo ingresso di recente. Le altre aziende sono in un rosso che non si può neanche definire tale perché è veramente rosso sangue, con le due peggiori essere Virgin Galactic che sembra non migliorare e Lemonade che sembra continuare sempre a vivere in quel limbo. A mio parere, considerando comunque tutte queste aziende buone, vedo in Virgin Galactic che effettivamente è quella più debole perché è un business poco scalabile, per cui fatemi sapere se, secondo voi, la dovremmo rimuovere o se invece pensate che possa essere una buona idea andare a mediare il prezzo. Questa è la mia proposta invece per i prossimi acquisti. Il Nasdaq sta scendendo parecchio, da inizio anno ha perso quasi un 25%, per cui ci sono tante aziende ottime che secondo me in questo momento hanno dei pezzi molto interessanti. Una l'abbiamo già qui in portafoglio del Metaplatform. La mia idea era questa, vi voglio proporre tre alternative. La prima, fare un primo ingresso in Amazon, secondo me è vero che andiamo a spendere più dei canonici 1000€ che ci siamo prefissati, però è un'azienda che andrà a fare uno stock split a brevissimo, almeno queste sono le voci. La seconda è andare a entrare in Alphabet, per cui in Google, anche questa azienda che è andata a rintracciare in un prezzo, in un range di prezzo che non è male, diciamo, per fare un primo ingresso. Anche qui ci si aspetta uno stock split. Idea è una del mese, andiamo a fare due ingressi, uno in Amazon e uno in Google. In questa situazione andiamo a spendere molto di più di quello che ci hanno proposto, cioè di andare a fare ogni ingresso di 1000€, o in questo caso 1000$, essendo dollari americani cui aziende sono quotate sul mercato americano. Ovviamente nel mio sondaggio Telegram andrò a definire queste tre alternative, ma non saranno le uniche, perché mi andrò a proporre anche un'altra azienda che è Carvana, azienda di cui sono andato a parlare proprio ieri, nell'ultima puntata di Buonanotte Mercati, perché ha fatto delle operazioni, alcuni licenziamenti e anche altre operazioni che potrebbero fare a crescere nel brevissimo periodo, per cui potrebbe essere un modo per speculare e andare a guadagnare qualcosa. La quinta scelta sarebbe quella di andare a chiudere la posizione di Virgin Galactic, accettare quello che è la perdita, però andare a non portare il portafoglio a dei drawdown piuttosto stressanti. Quello che dobbiamo dirci ovviamente è che ci aspettiamo da questo portafoglio crescita nel lunghissimo periodo e per cui non possiamo soffermarci a questi architemporali mensili, perché andiamo a fare appunto dei video aggiornamenti ogni mese, anzi vi dirò di più, faremo l'ultimo giugno e poi per l'estate andrò a stoppare questi aggiornamenti, lo riprenderemo intorno a settembre-ottobre, perché secondo me diamo tempo un po' al mercato di andare a fare il proprio lavoro senza andarci a perdere in situazioni che vengono comunque trainate in negativo anche dalle situazioni di tensione internazionale che si sono comunque in questo periodo e che sicuramente non andranno a dissiparsi nel brevissimo periodo. Vi dicevo tra l'altro che XTB forniva gratuitamente un mini ebook gratuito appunto sulle cripto, vi faccio vedere qualche paginetta, vi lascio il link anche in descrizione se voleste scaricarlo, è gratuito. Vi faccio vedere giusto qualche paginetta, comunque vanno a fare un'introduzione a quello che è il mercato cripto, come si è andato ad evolvere, cos'è la definizione di blockchain, per cui andare a spiegare quello che effettivamente è una blockchain che è poi alla base di tutto quello che è il movimento della creazione dei token, quali sono le modalità di investimento delle criptovalute, i vari exchange, i vari vantaggi e svantaggi, come si potrebbe investire anche in criptovalute magari attraverso dei CFD che sicuramente sono più rischiosi perché vanno a utilizzare la leva, ma allo stesso tempo possono dare dei vantaggi di trading e poi cosa influenza il prezzo delle criptovalute e quella che è l'offerta su XTB, per cui giochiamo a utilizzare i vari strumenti tradabili su XTB, quali che sono le scadenze, le analisi di mercato e quello che è la piattaforma, quali sono i token al momento disponibili, ovviamente in questa lista c'era anche l'una che non ci sarà più per gli ovvi motivi che tutti conoscete ed ovviamente anche capire quali che sono i rischi grazie a questo ebook di quello che potrebbe, ci potrebbe incorrere andando a utilizzare questi asset che sono molto volatili, molto inclini ad essere manipolati dal mercato, soprattutto adesso che ci sono i vari big player, conoscere bene come funziona il tutto, almeno le basi, perché è un ebook molto piccolo ma che dà le basi a chi voglia cominciare in questo momento, per capire quello che ci gira intorno e se veramente si è preparati a fare determinate azioni oppure no. Ricordo che questo è un semplice ebook e non sto dando né consiglia di investire né tantomeno ad investire soprattutto in questa asset class che io reputo molto pericolosa e che utilizzo veramente poco rispetto alla totalità del mio portafoglio. Bene, torniamo alla mia faccia per le ultime considerazioni. Ebbene, eccoci arrivati anche alla fine di questo video, spero che questo contenuto, questo mio aggiornamento mensile sia stato di tuo gradimento e se così fosse ti chiedo la cortesia di darmi i tuoi feedback, impressioni e considerazioni nella sezione apposta qui sotto, quella dei commenti. Mi piacerebbe anche sapere come sta performando il tuo portafoglio personale, che obiettivi hai, condividi con me le tue incertezze, metodologie o semplici idee. Cresciamo tutti insieme nella community e ti ricordo tra l'altro se vuoi utilizzare xtb o vuoi scaricare appunto l'ebook gratuito trovi qui sotto il link affiliato in descrizione. Come sempre ti chiedo di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube e se sei nuovo su questo canale di cliccare la campanella delle notifiche dopo esserti iscritto affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Anche per oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao! Ciao!